Alle mie spalle l'area protetta comunale Gemma, un gioiello che fa fatica a risplendere perché è un'oasi abbandonata a se stessa, tenuta in piedi solo grazie al lavoro e ai volontari del comitato di quartiere San Michele. La Regione Veneto ha cofinanziato il progetto di valorizzare quest'area, ma l'amministrazione comunale del sindaco Elena Pavan sembra essersi dimenticata di questa struttura, che fino a qualche anno fa ospitava anche una scuola l'asilo. Insomma, se l'oasi Gemma ha ancora un cuore che batte, lo deve esclusivamente ai volontari che mantengono pulita l'area, limitando al meglio delle loro forze atti di vandalismo e degrado. Teniamo pulito tutta quanta l'oasi, però non possiamo stare qui a attendere tutte e quante persone che entrano dentro e lasciano immondirsi dappertutto. E con le belle giornate si ripresenta anche il fenomeno delle feste notturne fra adolescenti, che in periodo di Covid sono un pericolo, oltre che un danno. Ci vorrebbe uno, anche da parte dell'amministrazione, che si dedicasse a fare dei percorsi o passeggiate anche qui ai ragazzi e scoprire questa zona. Se fossimo in un poema di John Milton potremmo dire che questo è a tutti gli effetti il paradiso perduto. Un peccato non valorizzare quest'area. Intanto, in attesa di risposte, il consiglio che diamo a tutti è questo.